Gentili telespettatori, buona giornata. Paragone, De Magistriz, Rizzo, Cunial, tutti fuori con i loro partiti dal Parlamento. Ma tutti vanno meglio di Di Maio che non ha raggiunto neanche l'1%. Perché? Vediamo che dai voti ormai definitivi i partiti che sono all'interno delle coalizioni devono raggiungere almeno l'1% per poter entrare in Parlamento se sono dentro una coalizione. Se sono fuori dalla coalizione devono raggiungere il 3%. Vediamo che noi moderati, lupi eccetera eccetera 0,89. Vediamo poi che impegno cifico di Di Maio 0,56. E poi andiamo a vedere Gianluigi Paragone che ha preso l'1,87 al Senato e alla Camera ha preso l'1,90. E poi vediamo che Italia sovrana popolare al Senato l'1,12 e alla Camera ha preso l'1,24. Anche loro fuori dal Parlamento. E poi abbiamo tutti gli altri partiti 0,71, 0,98, Partito Comunista 0,26, Mastella 0,15, Alternativa per l'Italia 0,15, il Partito Animalista 0,06, un altro Partito Comunista 0,02, Destre Unite 0,1. Poi forza del popolo musso 0, ha preso 873 voti e non è arrivato neanche allo 0,01. Totale votanti 27.437.289 su 45.210.950. E così vediamo che non sfonda la leadership di rottura di Paragone. Il suo partito Italexit si ferma sotto il 2%, supera di poco l'1% Italia sovrane popolare di Marco Rizzo, mentre l'Unione Popolare non va oltre l'1,5%. Quasi 200.000 voti per Vita di Sara Cunial che raggiunge un 6,6% però in alto adige. Per il resto Vita abbiamo detto che ha raggiunto lo 0,71 con 195.984 voti in tutta Italia. Quindi i partiti antisistema fanno un assoluto flop. I loro elettori o non sono andati a votare o sono in forte ma forte diminuzione. I cittadini non hanno premiato queste piccole liste che si sono presentate come indipendenti, in rottura con i partiti tradizionali. Non sfonda Gianluigi Paragone, Italexit, sotto la soglia di sbarramento. Il senatore uscente fuoriuscito dai 5 Stelle, che era fuoriuscito dalla Lega, ha ammesso di aver contato su un'affluenza decisamente superiore. Non credo sia un bene per la democrazia un'affluenza così bassa, diceva Paragone ieri. C'è un paese preoccupato che non trova nella proposta politica né una risposta né una spinta per andare al voto. In realtà il paese preoccupato ha votato Fratelli d'Italia e Centrodestra. Il paese preoccupato non ha voluto votare partiti antisistema perché dice siamo preoccupati se facciamo vincere un partito antisistema possiamo proprio essere dichiararci finiti. Si va dalla padella alla brace. La campagna di Paragone mirava al coinvolgimento dell'elettorato insofferente verso le restrizioni Covid, quelli che erano contro l'Europa, quelli che volevano lo scontro col mainstream e lo scontro col mainstream non ha pagato. Quella fascia di elettorato su cui puntava Italexit non è andata a votare. Se tutti quelli inneggianti a Paragone e all'antisistema fossero andati a votare avrebbe tranquillamente superato il 3% e ci sarebbe stata una rappresentanza in Parlamento. Ancora più basso il risultato di Italia Sovrane e Popolare di Marco Rizzo. Il segretario del Partito Comunista con la sua lista creata alle elezioni ha ottenuto un risultato che supera di poco l'1%, seppur rispetto al 2018 in rialzo. Ha personalizzato Rizzo molto la linea del partito, ma resta lontanissimo dall'ingresso in Parlamento e arriva dietro sia Italexit sia Unione Popolare di De Magistris che si ferma all'1,5%. Un risultato che mostra lo stato embrionale del progetto di unione a sinistra lanciato da De Magistris. Insomma, sotto l'1% allo 0,72 c'è anche con quasi 200.000 voti, 196.000 e qualcosa, vita, il partito antivaccinista di Sara Cunial, ex deputata del Movimento 5 Stelle, che ottiene comunque un risultato migliore del suo ex capo politico Luigi Di Maio, che è allo 0,56. Cunial che raggiunge solo in alto adige il 6,6%. Quindi i partiti antivaccino oggi, al giorno d'oggi, non interessano più. Come si dice, passata la festa, scurdato, lo santo, come dire, quando passa la festa ci si dimentica del santo. Quando le cose passano e ci sono altri problemi, la gente ha altri problemi, è difficile che vadano a votare un partito antivaccino oggi. con i problemi di bollette, gas, luce, di lavoro sottopagato, di crisi internazionale. Andare a votare un partito antivaccino oggi non ha nessun senso. Come votare oggi un partito usciamo dall'Europa non ha nessun senso. Se avesse un senso l'avrebbero votato il 50% degli italiani. Se davvero fosse il problema, ma non lo è. Ancora più in basso troviamo Sud Chiama Nord, di Cateno De Luca. Sud Chiama Nord. Ma si fa a chiamare un partito Sud Chiama Nord? Sembra proprio Sud Chiama Nord, dateci di sordi, no? Ecco, Sud Chiama Nord. Chiama il Veneto, la Lombardia. Che te chiami, Cateno? Ma cosa ti chiami, Cateno? E poi il partito comunista italiano, Sud Tiroler, Volkspartei, il partito animalista e alternativa per l'Italia. Sono proprio più in basso di questi altri partiti. E poi siamo intorno allo 0% anche il partito della follia creativa. Follia creativa, vabbè, free, free, un partito scritto con una parola in inglese. Complimenti, veramente number one. E forza del popolo, forse era piazza del popolo. Tre simboli che messi insieme non raggiungono le 3.000 preferenze nella corsa ai seggi della Camera. Tre partiti che raggiungono 3.000 preferenze vuol dire che sono stati votati da quelli che hanno ideato questi partiti e probabilmente dai loro amici e familiari. E io mi chiedo, perché perdere tempo a fare queste robe? Bah, arrivederci a tutti e grazie.